direttore facciamo una setta di mano qui direttore scusi ok possiamo fare una con la scelta grazie non mi spegnete che vado addosso a tutti davide davide una centrale più al centro la sciarpa ok scusa mi è stata fatta a schia grazie allora un attimo ecco qua davide davide scusa davide al centro dopo dite che sto cattivo